allora io direi di passare all'argomento successivo ovviamente abbiamo parlato un po' della concorrenza diciamo così qualche tempo fa da te è stato un personaggio diciamo così un nostro amico tra virgolette perché è stato anche nostro ospite in passato poi magari ti spiegherò quello che è successo se vuoi hai capito già di chi sto parlando sto parlando di Fabrizio Cerrone che impressione ti ha fatto Fabrizietto? allora tranne una cosa voglio dire allora Fabrizio Fabrizio si chiama? Fabrizio Cerrone sì Fabrizio fece un video contro di me a Buffetball un anno fa un paio di mesi fa 4-5 mesi fa ma è ancora online questo video? cioè dico se lo troviamo se magari lo volessimo far vedere un attimo non c'è più è stato scomparso è basso facendo l'intervista una città parlavamo di Cerrone di Fabrizio Cerrone video contro di me volevo sapere un po' di più su questo video che fece un anno fa su di te di cosa praticamente da buffare parole ma perché per quale motivo di che qual era l'argomento? io non l'ho visto me l'hanno detto i miei amici ora che poi dopo il sedicesimo profilo ho preso di nuovo visibilità è venuto a maniolare perché vanno a sfruttare che quello vogliono sfruttare solo ma io perché avevo il casino e tantissima folla che stavo vendendo altrimenti l'avevo cacciato grazie a tutti